Questa iniziativa spezzina apre poi di fatto la porta per arrivare alla Salone Orientamenti che si terrà a Genova nei prossimi giorni. Ecco, quali opportunità per questi ragazzi? Sì, gioco di squadra. Ovviamente ci teniamo molto che la Spezia abbia un suo momento forte dedicato all'orientamento e quindi ci siamo prestati ben volentieri a costruire queste bellissime giornate. Naturalmente all'appuntamento regionale per eccellenza che quest'anno diventa nazionale è il Salone che si svolge a Porto Antico che in realtà diventa un villaggio quest'anno. In tutta l'area del Salone e non solo, nel Porto Antico ci saranno decine e decine di iniziative dalla visita alla portaerei alla Signora del Vento che è un velliero tre alberi dell'Istituto di Gaeta e che fa capire l'intenzione di questo Salone di essere nazionale con l'aiuto delle eccellenze scolastiche che vengono da tutta Italia, dal Lazio, dalla Sicilia, dal Friuli. Insomma, abbiamo 12 scuole che vengono al Salone apposta per farsi conoscere. E poi la grande novità è la via dei mestieri e delle professioni di domani. E quindi abbiamo costruito all'Acquario di Genova, a Italy, al Museo della Navigazione, al Palazzo Verde dove è il luogo di tutto ciò che fa ambiente, alla Biblioteca di Amicis, le vie della cultura, le vie del mare, le vie dell'ambiente, le vie della ristorazione. E soprattutto la grande novità è il tendone delle feste occupato dal CONI che presenta 70 professioni dello sport. Quindi lo sport non è solo attività fisica, gioia e piacere di allenarsi e di vincere dei premi, ma è anche una grande opportunità di lavoro. Quindi veramente un'occasione irripetibile che vale la pena di visitare. Anche perché chi viene avrà la possibilità di uno sconto del 50% sull'Acquario, sul Museo della Navigazione, sulla Città dei Bambini, su tutto ciò che avviene nell'area.